La Porsche RS Spyder è stata costruita sullo chassis numero 31, prodotta in soli 90 esemplari tra il 1953 e il 1957. Il 4 cilindri boxer da 1498 cm3 sviluppava 135 HP grazie a un'architettura super sofisticata che prevedeva, tra l'altro, testate biarbero. Fa specie l'enorme spoiler che sovrasta l'abitacolo, una necessità per evitare alla RS Spyder di decollare.